Per la quarta volta il comune di 15 viene sciolto per condizionamenti malavitosi. Il sindaco Edoardo Rubinaccio, insieme ad altri 14 indagati, è accusato di falso in atto pubblico per aver fatto risultare 116 elettori fittiziamente residenti a 15 in modo da poter votare in occasione delle amministrative del settembre 2020. Le indagini a gennaio dello scorso anno hanno portato alla notifica dei 15 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, con accuse a vario titolo di falso in atto pubblico, con messo da pubblico ufficiale e da privati in concorso. Alle amministrative del 2020 Edoardo Rubinaccio vinse sul rivale Francesco Grasso per 94 voti, 780 preferenze contro le 686 del suo avversario. Le indagini dei militari dell'arma e dei magistrati irpini si concentrarono in particolare su sei persone residenti nella provincia di Napoli e nel comune di Forino, che proprio nel periodo delle elezioni avevano spostato la loro residenza a 15. Il loro indirizzo corrispondeva a un'abitazione che era nella disponibilità del primo cittadino. Alcuni mesi dopo le elezioni, queste persone hanno poi spostato nuovamente la residenza presso i comuni di appartenenza.